Non si può stare tranquilli in questa vita, non si può. Tre anni di Champions, Scudetto, semifinale, bilancio in positivo. E siamo qui tutto il giorno a parlare di cessioni. Volevo chiuderla stamattina, però siccome le voci diventano insistenti, dicono che la società ha già accettato. La società ha già accettato 70 milioni per tonali. E manca solo la sua risposta. Io ve lo dico, l'ho messo nel titolo, ma ve lo dico. Se vendono tonali, sabato alle 15 ci vediamo a Casamira. Sabato alle 15. Chi vuole venire vado pure da solo. Quindi sappiate che se vendono tonali, sabato alle 15 io sono a Casamira. Poi chi vuole venire, viene e chi non vuole pure da solo vado, non mi interessa. Io porto avanti. Quindi tenetevi già liberi per sabato. Niente mare, si va a protestare. Detto questo, io secondo me non va, se ve la devo dire tutta. Secondo me non va, come ho detto su TikTok. Per chi mi segue, per chi non mi segue, seguitemi su TikTok. Da quello che so io, lui di carattere. Lascia stare che ama il Milan, che è rosso-nero, vecchio cuore. E va bene. E questo va bene. Poi alcuni dicono è importante, non è importante. Per me è importante. Per me è importante. Però oltre questo, il fatto che ama il Milan, caratterialmente chi lo conosce, caratterialmente chi lo conosce Sandrino, non è uno che prende, va in un altro paese. Cioè è uno che a lui piace avere la famiglia vicina, gli amici vicini, le sue cose. Poi va in un posto di merda. Perché lì Newcastle, il sole quando lo vede, due giorni all'anno lo vede. Ma è un bel posto dove vivere, no? Quindi, cioè, fosse un'offerta da 10 milioni l'anno, 12 milioni l'anno, uno dice, ne prende 3, 3,5 al Milan, potrebbe arrivare a 4,5 nei prossimi anni. Non mi sembra un'offerta irrinunciabile, sinceramente. Non mi sembra un'offerta che tu dici, vabbè, devo accettarla per forza. Il vero problema che la gente non sta valutando, il vero problema è che questa società, a quanto pare, ha accettato. Cioè il problema è che questa società ha accettato. Questo è il problema vero. E il problema ancora più grosso, ancora più grosso, che non è come l'Inter che vende Brozovic e comprano Frattesi e Milinkovic. Questi qua vendono tonali e prendono Shaqiri, Royal Nelson, Chupa Chupa e l'altro Chupa Chupa. Cioè questo è il problema vero che la gente non capisce. Che qua, oltre che non si vendono i pilastri di una squadra, perché poi mandando via tonali, tu che segnale dai a tutti? Che segnale dai? Che segnale dai se tu vendi la spina dorsale? Vuol dire che sei nel supermercato, possono andare via tutti. Non c'è un progetto, non c'è ambizione, non c'è nulla. Non c'è nulla. Quindi io ve lo dico, se vendono tonali, io sabato sono a casa mia, pure da solo. Non mi interessa. Vado lì con il mio bel cartellone, Cardinale Vattene. Tranquillo. Mi faccio due foto, giusto per far vedere che sono là, perché poi le foto amplificano le cose. Non servirà a niente? Tanto la società non mi ascolta? Va bene. Non fare niente servirà sicuramente a meno, no? Cioè tutte le cose partono da un primo passo. Io ve lo dico, se vendono tonali, io sabato vado a casa mia. Chi vuole venire, vado alle 15, così lavoro, mangio, e vado bello tranquillo, con la pancia piena, e mi faccio almeno un'oretta, lì minimo, col mio cartellone, e vediamo. Prima o poi qualcuno mi seguirà. Vediamo quanti mi seguiranno. Pochi? Va bene. E vado io. Poi domani sarà un altro giorno e si vedrà. Questo è il problema vero. Ragazzi, io non mi sorprendo di niente. La mia protesta, sapete, era quando è iniziata. Io spero che adesso magari questo campanellino tonale sveglierà anche gli ultimi. Faccia svegliare anche quelli che fino adesso hanno detto vediamo, aspettiamo. Il salto di qualità io già da questa protesta a parte la portavo avanti da anni ma quest'estate in particolare voi mi vedete come un pazzo quest'estate. Cioè, mi avete mai visto un pazzo come sono quest'estate da quando è finito praticamente il campionato? Cioè, sono pazzo ma così non tanto, eh. Cioè, da quando è finito il campionato che io sono qua che sto come un pazzo. Perché io le cose le prevedo prima. Allora, io dico il ben gente di YouTube lo dico per scherzare, no? Però le cose si vedono già prima. Quando abbiamo venduto Shevchenko io stavo come un pazzo perché sapevo quello che sarebbe successo. Anni e anni e anni di buio. Nel momento in cui abbiamo venduto Shevchenko si era già capito dove si andava a parare. Abbiamo fatto gli anni peggiori. Poi quando è che ci siamo ripresi? Quando sono andato a comprare i Shakiri, i Goulart. No, sono stati a prendere Ibrahimo, Vicerobigno. Hai capito? Per andare a vincere. Sono stati a prendere Ibrahimo, Vicerobigno. Così siamo tornati a vincere. Poi li hanno rivenduti insieme a Tiago Silva. Li hanno rivenduti e siamo tornati nel buio più profondo. No, ma non si vince con i nomi. Ti ricordi quando abbiamo preso Fernando Torres? E però tutte le altre volte che abbiamo vinto come li abbiamo vinto? Con i nomi abbiamo vinto sempre. Prendendo i Van Basten, i Pappen, i Rui Costa. Ti svegli? Sempre così abbiamo vinto. Vedi, io voglio stare calmo. Però poi mi sale, mi sale la... Non devo urlare. Però poi mi sale il nervosismo, no? No, non si vince con i nomi, no? Non si vince con i nomi, no? Non vincevamo con gli Shevchenko, no? No, no, no. Non vincevamo, non predevamo un pallone d'oro ogni anno con Berlusconi. Sempre si ha lodato. No, non vincevamo. Vincevamo con le scommesse. Con In Guler vincevamo, sì. Sì, 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 sì. Vediamo, qua le voci si fanno insistenti. Cioè, invece di parlare degli acquisti parliamo delle cessioni, ragazzi. Cioè, è incredibile. Tre anni di Champions, a rompermi i maroni. Dovete arrivare nel quarto posto. Se no, se non si fa mercato, se non arriviamo in Champions. E io che continuavo da solo contro il mondo. Da solo. Da solo contro il mondo a dire non è un problema di arrivare in Champions. Anche arrivando in Champions non faranno mercato, perché questi sono degli sciacalli. E ve lo continuavo a dire. No, dobbiamo arrivare in Champions. Adesso il nuovo mood è no, lo stadio. Se non facciamo lo stadio, non si... faremo lo stadio, sarà uguale. Uguale. Tra l'altro, vi porterò un giornalista. C'ho appuntamento a pranzo. Non so se faccio un video stasera. Penso di sì. C'ho appuntamento a pranzo proprio sullo stadio. Lui è un giornalista di Milano Città. Milano Città-Stato. E vi porterò già altre brutte notizie perché lo stadio non si farà. Comunque, vi porto gioia che lui vi spiega a lui perché poi se ve lo dico io sono un pirla, no? Però vi faccio spiegare. Vi faccio spiegare da lui tutti i problemi, dall'aggiunta, eh? Vi faccio spiegare da lui. Quindi, ragazzi, io ve l'ho detto. Ve lo sto dicendo con calma, eh? Se vendono tonali, sabato, per chi vuole venire, ci vediamo a Casamina. Due striscioni, due cori. Siamo lì. Va bene? Ciao belli, eh? Ciao ciao. Ciao ciao.